Sesta giornata di campionato, 7 Cup, Blue Flowers contro Joran Cittill. Siamo al 22esimo del primo tempo? Che minuto è Sergio? Siamo più o meno intorno al finale di primo tempo. Ok, si è per giù il 15esimo, il 20esimo. Punteggio? 2-1 Blue Flowers. Non so se hai notato la papera del portiere dei Blue Flowers. Sulla uscita? Sì. No, non ho notato. Un piccolo pallonetto. Ma lui purtroppo, come sappiamo, è molto bravo tra i pali. Per inizio se fosse, pensate alla telecamera. No, va, ha fischiato, dai, ha fischiato, vuol dire che ci sta. È più arbitro lui, dite. Stefano Grazio sul pallone. Bello, perfetto, ah che peccato, complimenti. Numero 7 Stefano Grazio ci prova, da fermo, visto che in movimento non è più cosa sua ormai. Come mai? È una lunga storia. Ma è sì, il giocatore praticamente è finito. Sì, eh. Si dedica soltanto alle femmine... Da Giovanni? Posate, tra l'altro. Ah sì? Sì, sì, sì. Uh, bella, guarda che giocato. 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 Guarda che giocato non intuisce una cosa preggevole che avrebbe potuto fare il fratello. Ed è giusto così. Sono una rarità, diciamo. Rivante da Nicola. Sono un po' nervosi, io rispetto a... Eh sì, perché loro già sono nervosi loro, poi in più c'è il punteggio che non li premia. E quindi... Vabbè, comunque rispetto alle altre partite, notiamo che gli Orange... Un po' più caldo. Sì, sì, sono abbastanza migliorati. Farà anche la presenza di New Mister. La presenza di Mister per rotta è fondamentale, secondo noi, perché riesce a gestire tecnicamente e tatticamente la partita, ma anche molto su livello morale. Vediamo Pozziello in area che guadagna spazio, metri. Arriva Vigni, grande parata del portiere, che recupera magari una mezza faverella sul primo gol degli Orange. Sull'unico gol degli Orange. Calcio d'angolo battuto da Vigni. Cercherà Pozziello in area sicuramente. Tessa sul primo palo. Spazza la difesa, fa la forza. In posizione Pirlo, manda palla a Russo, che non la intercetta. E quindi si partirà da Livio, Barone, verso Mario per rossa. Di nuovo trovo Pozziello, grande portiere in uscita. Una palla che potrebbe tranquillamente bloccare. Decide... Ha visto forse sott'occhio la telecamera. E decide quindi... Vediamo il giovane numero 14, degli Orange, che si porta sul sinistro. Tira a porta il difensore di petto. Devi è in calcio d'angolo. Comunque... Le Orange in questo momento si stanno comportando benissimo. Un'ottima reazione degli Orange al 2-1 dei Blue Flowers. Siglato di testa da Gianni Grasso. Vediamo che il portiere richiama la squadra. E forse questa sarà una scintilla. Speriamo di no. Mi ricorda molto quel portiere di nome Soviero. Soviero, sì, sì, Soviero, sì. Oh, un autogol. No, qui non c'entra nulla il portiere. Perché un autogol completamente inaspettato. Vareggio degli Orange. Del difensore dei Blue Flowers. Comunque, con tantissimo buona volontà e buon senso, ha cercato di buttare in palaterale. Si sente un po' l'assenza di Daniele, eh. Un po' di fede. E il portiere degli Orange. Eh, vabbè, lo stai dicendo tu, eh. Perché poi Mirone... Si sa com'è, non mi guardo. Si sente un po' l'assenza, dai. Ma anche fisica, non solo... Ma anche morale. Spintarella. C'era tutta, io l'ho vista. Ma bella comitata. S'ha coperto, Stefano. Ma bella comitata. S'ha coperto l'arbitro, ci può stare. Senti, penso che la mia mano sia andato in... E vediamo questo tiro di Pozzillo. E ci diamo qui il colgamento salutando tutte e due le squadre fair play in campo. Vediamo correttezza, strette di mano e abbraccio. Complimenti. Che vogliamo vedere dagli Orange e da tutte le altre squadre. Alla prossima. Complimenti, ragazzi. Un saluto da Max. E Sergio. Ciao, ragazzi. Aspetta, vediamo questo contro il piede. Devi venire a salutare... Palo! Palo interno. Vabbè. Giovanni Grasso, di punta. Vabbè, dai. Scusiamo, aspetta. Finché non esce la palla, dai. Scusiamo il collegamento. Ciao, ragazzi. Ciao a tutti.